... del castello, di antiche fornaci... Com'è ormai tradizione, a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Messer Tulipano ha annunciato l'arrivo della primavera. Ogni anno Messer Tulipano propone nuove allestimenti ed esposizioni a tema. L'inaugurazione della Kermesse dedicata ai fiori primaverili per Antonomasia è in programma nella mattinata di sabato primo aprile. Dal primo di aprile al primo di maggio possiamo ammirare innumerevoli tipologie di Tulipano presso il castello di Pralormo. È una località tra il torinese e il roero fantastica che è stata rivalorizzata proprio dalla contesta di Pralormo e da tutti gli addetti che ogni anno, gli artisti che ogni anno partecipano e aderiscono a questa iniziativa. Messer Tulipano sarà visitabile sino a lunedì primo maggio. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. In occasione della diciottesima edizione sarà inaugurato un nuovo ingresso al castello di Pralormo arricchito da un viale di giovani ciliegi giapponesi e da nuvole di fiori rosa circondati da tappeti di tulipani dello stesso colore. La cosa più importante è che l'evento compie 18 anni, quindi Messer Tulipano diventa maggiorenne. Abbiamo pensato quindi di affiancare un tema collaterale importante che sono gli alberi raccontano. Noi pensiamo che le nostre radici sono gli alberi, in particolare Pralormo un parco storico, ha alberi anche di 400 anni e quindi ci sarà un percorso didattico interessante per grandi e piccoli sviluppando il tema. Inoltre il piantamento che gli altri anni era di 80.000 tulipani è aumentato di 10.000. Abbiamo aperto un nuovo accesso verso l'azienda agricola in cui abbiamo piantato tulipani di tutte le screzzature di rosa, quindi un colpo d'occhio eccezionale.